Stanno venendo per lui Andientiamo gli umani! Indietro! Indietro! Passiamoli tutti! Non farlo mai più! Sorvegliate le entrate! Restiamo tutti uniti! E manteniamo questa linea! Mantenere la posizione! Forza, forza, serriamo le fila! Non c'è più vicini! Muoversi, muoversi, più vicini! Tradiscono la loro stessa causa. Uccideteli! Uccideteli! Non ancora. Va a prendere il ragazzo e uccidilo. Con piacere. Vuole prendere il ragazzo? Io lo posso fermare! Che dè? Vieni! 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 Fatti ricrescere quelli.